Buonasera mister, buonasera, ben rivisto, eccolo qui, andiamo ad ascoltare. 0-0, nonostante le tante occasioni, da una parte, voi soprattutto nel primo tempo, dall'altra soprattutto nel secondo il Pescara. Insomma, qual è il giudizio? È il giudizio che noi eravamo partiti forze per cercare di sbloccare il risultato, dovevamo vincere questa partita. Il primo tempo è stato giocato molto bene da parte nostra, ci è mancato solo il gol. Anche all'inizio della ripresa, quando Crociata ha fatto una azione, una bellissima azione che è andata davanti al portiere, poi purtroppo non abbiamo fatto gol, è chiaro che poi, se non concretizzi quelle occasioni, lasci la partita aperta, ma la lasci in mano al Pescara che ha qualità, a palleggio, è molto rapida in attacco, quindi se comincia ad aprire il campo diventa pericoloso, puoi portare a casa il risultato. Però siamo stati costretti a quello perché comunque non riusciamo a far gol, è normale che la partita sia un po' spaccata, non ci siamo allungati e il Pescara è venuto fuori perché ha sfruttato la sua migliore qualità. Al secondo tempo c'è stato anche un calo forse fisico della sua squadra, avete rischiato, però avete continuato anche ad attaccare. Ma non avevamo alternativa oggi, dobbiamo solo vincere, quindi alla fine un normale calo ci può stare, non è che siamo calati, forse a metà del secondo tempo, quando abbiamo un po' rifiatato perché abbiamo fatto un primo tempo al 100 all'ora, inizio della ripresa buono, poi siamo un po' calati perché in quel momento lì è chiaro che poi se non è sbloccato il risultato si fa dura. Poi ci abbiamo riprovato alla fine, il gol non è venuto e ne prendiamo atto, siamo ramaricati, però si è cercato di fare il possibile massimo per vincerla. Castori, io le volevo chiedere, rispetto alle avversarie in chiave play-off, dico del Pescara che lei ha incontrato nell'ultimo periodo, dove colloca il Pescara che ha visto questa sera, considerate anche le otto assenze che aveva Pillon? Secondo me ci sono quelle tre squadre che hanno qualcosa di più delle altre, a parte Brescia che vince sempre, io parlo di Palermo, è il Lecce che sta facendo bene, è il Benevento che ha un organico di altissimo livello, di prima qualità. Poi le altre se la giocano, però questo non vuol dire che chi è più forte poi vince ai play-off, non vuol dire niente. Però mi sembra che Pescara stia facendo un campionato, come posso dire, nelle sue capacità, cioè un buon campionato, un ottimo campionato, le altre secondo me, queste tre o quattro con il Cidato, secondo me hanno qualcosa in più, però Pescara è lì e se la può giocare ai play-off. Mister, tornando al suo Carpi, alla luce dei risultati di questa sera, il pareggio del Padova-Palermo, il pareggio tra Foggia e Livorno, questo punto come si può considerare? Lascia aperta comunque ancora la porta della speranza? Per forza, perché la Mademavica ancora non ci condanna, sono quattro partite, dobbiamo giocare al massimo, cercando di fare i più punti possibili e poi diremo le somme. Ci rendiamo conto che più il tempo passa e se il distacco rimane invariato, la situazione si fa sempre più difficile, però non bisogna mollare, bisogna insistere e oggi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ci siamo impegnati, abbiamo dato tutto, la vittoria non è venuta, dobbiamo continuare a lavorare bene, insistere e sperare.